Gigi Chessa, Fiori, 1927, 50x40, olio su tavoletta, l'opera è firmata e datata in basso a destra. Ora, guardate questo quadro, credo che si veda anche in televisione, davvero qui stiamo parlando di un modo di dipingere, un quadro del 1927 ed è completamente un altro ambiente rispetto ai quadri che vi ho presentato precedentemente. L'asta Sant'Agostino, la 118esima asta, presenta quadri dell'800, del 900 e contemporanei. Gigi Chessa, pittore torinese, quindi molto conosciuto qui a Torino e molto apprezzato dai nostri clienti collezionisti, perché lo dico spesso, i nostri clienti sono quasi tutti dei collezionisti. Quindi, fra i nostri clienti non c'è molto lo speculatore, ma c'è più il collezionista. Torino è stata ed è tuttora sede di grandi collezioni di arte, è nata qui l'arte povera, ma anche i sei di Torino e sicuramente ci sono delle persone che amano l'arte e sono spesso nostri clienti. Questo quadro di Gigi Chessa, questo vaso di fiori, è un quadro del 1927, come vi ho già detto, la richiesta è di 11.000 euro. L'opera è firmata e datata in basso a destra, le dimensioni sono 50x40, olio su tavoletta. Fiori rosa, 1927, telefonate al numero in sovraimpressione per fare un'offerta di 11.000 euro di base d'asta. Prossimo.